Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli iscrivi. Ed ecco, nella loro sinagoga avviera un uomo, posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo, che vuoi da noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente, taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda, che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.